Meglio non pensarci, almeno in questi giorni, è la filosofia dell'italiano che confida nella buona sorte sperando che il futuro non sia nero come da più parti viene definito. La crisi c'è, è inutile nasconderlo. Aziende in ginocchio, recessione annunciata per il prossimo semestre, spread, la parola del differenziale, diventata familiare ed entrata di prepotenza nelle case. Il 2012 potrebbe essere sintetizzato per i cultori dei messaggi sui telefonini con quelle faccine tristi che lasciano cadere una lacrima. Sarà un anno duro dove si continuerà a perdere il lavoro, dove la pressione fiscale diverrà sempre più opprimente, dove primeggeranno gli ammortizzatori sociali, dove i risparmi tenderanno a ridursi ancora, dove i salari e le buste paga continueranno ad essere sempre più light. Una dieta per tutti condita da lacrime e sangue, ma in questi giorni nessuno ha voluto pensarci più di tanto. La corsa al regalo natalizio si è fatta però meno frenetica. La gente ha provato a spendere con oculatezza, regali utili, budget a disposizione delle famiglie notevolmente ridotti. Si è partiti dal panettone e dallo spumante per finire ai giocattoli per i più piccini. Anche Babbo Natale si è adeguato, non poteva essere altrimenti. Quest'anno poi i figli hanno pensato ai padri nello scrivere la letterina. Da qualche parte si è letto, caro Babbo Natale, fa che papà non perda il posto di lavoro, altrimenti saremo costretti a dirci addio. Resta Capodanno da santificare, nonostante il 2012 sarà bisestile. L'ottimismo si affievolisce e sono in tanti a confidare nel miracolo. Ci sarà?